allora allora dovremmo essere in diretta vediamo un pò vediamo una tutta oggi il oggi la linea fa trabbiare molto 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 oggi è stato proprio un disastro quasi non riuscivo a lavorare immagino quasi non ci faceva farla diretta esatto proprio guarda se vero se funziona per tutto il tempo siamo proprio come si dice fortunati perché altrimenti fa molto arrabbiare però dai speriamo che possiamo fare per intanto a tutti un abbraccio una buona serata siamo sempre felici molto di stare insieme a voi e speriamo voi a noi e che bello è condividere questo spazio di tempo insieme a voi davvero poi soprattutto questa sera in questa giornata di festa adesso aspettiamo dai che entri qualcun altro perché volevamo fare un po un augurio e una preghiera generale anche per questo sia per la giornata che per il momento che stiamo vivendo in questo come li chiama lì il tempo epocale di grande cambiamento quindi siamo nel 2022 un anno di grande trasformazione un anno di energie creative e comunque la trasformazione ha avuto inizio con un evento che non è stato molto e non è a tutt'oggi molto piacevole però sicuramente come tutte le cose brutte come tutte le cose che appartengono alla vita non vengono mai a caso sicuramente c'è un disegno dietro tutto questo che c'è qualcosa che dobbiamo capire che dobbiamo capire che deve portare a un'ulteriore trasformazione e che dire non possiamo dimenticare non possiamo far finta di niente non possiamo spostare il pensiero ovviamente la vita va avanti no certo perché dobbiamo fare le cose di sempre dobbiamo comunque essere gioiosi volenterosi anche di fare le cose come si suol dire come se niente fosse e io d'ermes cerchiamo di fare questo e ci riusciamo bene dobbiamo dire perché la vita va presa con ottimismo le va presa con leggerezza e consapevolmente però perché questi periodi questi spazi di tempo che anche se li spostiamo inutile che li mettiamo più là perché dopo due secondi sono di nuovo qui e quindi vanno affrontati in una maniera diciamo consapevole in una maniera dove prendiamo atto di questo dove però la vita è importante la vita deve essere comunque dritta comunque in piedi deve essere comunque un piedistallo per noi per tutti perché abbiamo delle responsabilità nella vita abbiamo anche della della continuità nella vita magari io per dire non ne ho forse tanta ma ermes ad esempio ne ha tanta e i nostri figli i vostri figli i miei nipoti ne hanno tanta ancora di più quindi dobbiamo imparare sempre di fare un passo in funzione di un altro e poi di un altro ancora ma non di passo di una persona di una condizione di vita se noi non dimentichiamo mai che mentre facciamo un passo serve a qualcun altro quel passo e che nella nostra urma qualcuno può trovare beneficio allora magari tutto ci sembrerà più facile no ermes meno impegnativo meno gravoso meno pesante meno meno tutto quindi questo è un tempo dove fra le tante cose dobbiamo anche pensare di essere leggeri assolutamente di sempre oggi però dai oggi è un giorno di festa è un giorno di festa dove io e l'idia vogliamo condividere con tutte le donne del pianeta un pensiero veramente d'amore di luce di forza e di coraggio la donna sappiamo che è molto capace di questo ha una forza dentro di lei che è una maestra esatto di cui ne è maestra di questa forza da da sempre tanto anche il titolo stesso della serata di questa sia di questa sera la dea realizzazione di donna ci dovrebbe far capire da dove prende la donna tutta questa forza è una forza creatrice ecco è una forza creativa 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 è una forza dinamica che sa dosare la proprie le proprie capacità le proprie forze le proprie energie e le sa convogliare esattamente all'interno della creazione stessa nel mondo del creato l'uomo supporta la donna la donna crea la donna plasma la donna ha praticamente in sé l'incubatrice che non è solo quella della generazione di figli ma è l'incubatrice dell'energia quindi in questo giorno di festa per tutte le donne del pianeta si aprono dei portali attraverso i quali non li apriamo né io né Lidia ma li apre la dimensione li apre l'amore e io Lidia vogliamo cavalcare l'universo esatto vogliamo cavalcare questi portali per mandare questo messaggio alle donne di forza e di coraggio di avere sempre quella lucidità quella luce quella l'ongimiranza del peso della vita perché il peso della vita grava sulle donne veramente la donna è sempre stata questo e quindi io sono una donna e come donna in questo giorno che alla donna va regalato un fiore no è una mimosa che è un bellissimo fiore peccato dura poco troppo poco sfiorisce presto è profumato ma sfiorisce presto però immaginiamo che le persone e oggi tutti hanno preso un fiore ma proprio tutti chi per una persona chi per un'altra persona chi con un pensiero ha preso un fiore beh ognuno ha preso un fiore quindi è come dire che il pianeta si è rivestito di un fiore io ho visto per un momento tutti questi fiori passeggiare da soli senza le persone andavano a spazio senza padrone che bello è stato poco non ho fatto in tempo come si dice a fotografare nella mente questa visione ma vi posso garantire che forse l'ho persa all'interno della mia mente proprio per ridere ridevo da sola dicevo ma che roba bella è che tutti questi fiori colorati tutto un lavoro di fioreria che andava dappertutto per le vie e quindi è stata un'immaginazione sicuramente comunque nella mia immaginazione l'ho vista e posso garantirvi che è stato stupendo quindi un pochino di questa bellezza naturale perché i fiori sono una bellezza naturale hanno dato leggermente una briciola di gioia a tutte le persone che hanno ricevuto un fiore e anche a chi non l'ha ricevuto un fiore per mille motivi devo farvi una proposta a tutte a tutti ai maschi e alle femmine facciamo noi un omaggio floreale a tutte le donne a tutte quelle che soprattutto non hanno ricevuto per mille motivi un fiore facciamo in modo che con l'altro pensiero nessuna donna resti senza l'omaggio di un fiore è un gesto d'amore, è un gesto di fratellanza, è un gesto di condivisione, è un gesto di amicizia che facciamo nei confronti delle donne del pianeta e anche quelle del cielo ma quelle del cielo ne hanno tanti già di fiori, quelle del pianeta forse a volte capita che non ce l'ha anche chi abita nel deserto, tutte le donne del pianeta riceveranno da noi un fiore e l'anima ovviamente lo scriverà sulla pagina di quella vita bello questo augurio, questo dono per dare ad ognuno e ogni donna del pianeta detto questo, iniziamo la nostra serata con un pensiero con un messaggio, più che un pensiero che il grande maestro ha scritto oggi nei confronti di questa giornata, di questo evento di questa... non è una ricorrenza, non è nemmeno un ricordare non è nemmeno un giorno che si festeggia oggi e poi basta deve rimanere per sempre, questo è un giorno che ci dovrebbe mettere nella condizione di vedere in faccia una realtà la realtà dell'importanza della donna della donna nella vita, per la vita e ora vi leggo il messaggio che Lidia ha ricevuto e che abbiamo condiviso Lidia ha condiviso sulla sua pagina Facebook e che adesso vi leggiamo per condividerlo anche con tutti voi grazie grazie al maestro, grazie a te che hai... è sempre molto carino e gentile hai concesso la tua penna di far scrivere questo messaggio il mondo femminile è immenso nasce dall'essenza senza limiti proviene dai confini di tutti i mondi qui si spingono le coscienze per andare verso l'amore che emette l'eco della vita qui tutto diviene armonia si alza il vento della richiesta che dice sono una voce che brama la vita la vedo, la rincorro, l'abbraccio sono esausta e dopo tanto camminare ecco che tocco con mano cosa sia la vita che meraviglia scoprire poi di essere in grado come mondo femminile di essere il creatore che può donare la vita per farla diventare il centro di me stessa la vita spirituale dove si racchiude il mondo maschile nella sua meravigliosa espressione esistenziale l'unione dello yin e dello yang di questo meraviglioso fiore si rispecchia nell'acqua della vita grazie grazie a tutti voi di aver ascoltato queste bellissime parole del maestro che si è espresso mi ha detto prendi la penna che devo darti un omaggio e lo ringrazio tanto per questa sua gentilezza per questa sua espressione che da come ha raccontato da come racconta la sua vita nella sua terra con Maddalena con la sua madre eccetera eccetera ha sempre avuto questo bellissimo gesto nei confronti della vita umana sia che fosse femminile che fosse maschile ma era un grande principe nella sfera femminile un grande principe veramente dai racconti che fa e che sono scritti sui libri di pagine cadute cioè perché e racconta la sua storia e di conseguenza all'interno della sua storia c'è anche la sua vita vissuta tutti i giorni quella semplice come noi perché comunque ha vissuto umanamente come tutti sappiamo quindi niente di particolare se ha avuto espressioni di uomo gentile con beh diciamo che è stato rivoluzionario Gesù per il tempo per il per il suo popolo per la sua cultura essendo stato un grande difensore del femminile delle donne dei principi dei valori pari merito che dovevano avere nella società quindi ha lottato e ha combattuto con le unghie con i denti per far valere i diritti anche e soprattutto delle donne in un mondo molto eh patriarcale molto maschilista quindi immaginiamo che cos'è che cos'è oggi combattere una realtà come questa immaginiamo il tempo però dai suoi racconti non c'è una condizione in cui non lo faccia lo si pone si pone sempre in difesa delle donne per innalzare la loro grazia la loro femminilità la loro energia e la loro appartenenza al mondo divino e e questo ci ha fatto vedere una realtà non solo di Gesù nella sua vita ma una realtà nel tempo nelle epoche con Lidia osservando come durante gli scritti partendo dalla creazione fino ad arrivare ad oggi come il femminile abbia percorso strade veramente importanti che poi sono arrivate a convogliarsi in quella che è la chiusura di questi duemila anni perché con alti e bassi la donna ha avuto sempre un ruolo fondamentale nella civiltà antica poi c'è stato un un degrado all'interno dell'uomo nel pensiero nell'energia dell'uomo e un po' dettato dalla paura un po' dettato da dalle condizioni che probabilmente si erano venute a creare con la caduta dei grandi imperi e quindi delle grandi religioni delle grandi filosofie del passato si è perso si è smarrito e oggi questo richiamo ci porta al passato a quando eravamo invece molto più in comunione con la donna e la donna aveva veramente il suo posto il posto che ha sempre meritato di avere diciamo che la donna quella che conosciamo che ha dato l'inizio alla nostra razza umana è la storia che conosciamo Eva era condivideva la sua vita con il grande gigante Adamo con il grande essere divino Adamo ma non stiamo parlando adesso di Adamo ed Eva eh però stiamo cercando di far capire che la donna fin dal primo momento della creazione anche se è diciamo legata al serpente alla disobbedienza a tutte queste cose ma la donna ha una spiccata visione di tutte le cose differenti da quello che sono le condizioni magari della vita no? e comunque non vogliamo parlare ripeto di Adamo ed Eva ma la prima Dea la prima Dea che ha aperto la porta alla vita e alla razza umana è Eva noi siamo i figli di Eva quindi questa grandiosa Dea che è la madre di ogni essere umano non esiste un'altra madre abbiamo una madre terra Gaia il pianeta ok? sempre una madre ma queste due madri si sono fuse insieme per dare una bellezza unica al pianeta e alla razza umana noi siamo una razza spettacolosa nel sistema solare è la razza più bella che c'è perché abbiamo i sentimenti perché abbiamo il corpo umano perché abbiamo la cellula perché abbiamo l'atomo perché abbiamo il gene perché abbiamo la vita perché abbiamo tutto quello che è la creazione noi abbiamo una potenzialità grande come razza umana quindi il maschio è il suo compito e la femmina è il suo compito anche nel regno animale e anche nel regno minerale e anche nel regno vegetale cioè queste due espressioni maschile e femminile fa parte del nostro pianeta quindi pensiamo noi che dobbiamo conoscere bene questa essenza di realtà che fa esistere il nostro pianeta nel sistema solare noi siamo fatti di queste due versioni di queste due energie non noi non noi umani e basta ma tutto quello che è nel creato è l'energia femminile energia maschile quindi dobbiamo dobbiamo comprendere questa cosa la dobbiamo assaporare bene la dobbiamo capire ma studiare addirittura per cercare veramente di capire che cosa significa questa è femmina e questo maschio può essere che un sasso abbia l'energia maschile femminile sì la foglia certamente l'acqua assolutamente l'animale non ne parliamo e l'uomo siamo convinti quindi abbiamo a che fare con questi grandi esseri che ci hanno aperto le porte alla vita di materia parliamo delle idee e non degli dei maschi ma delle idee la dea è femminile mi affogo le idee le idee rappresentano quello che è la struttura energetica del femminile e come gli dei nella struttura energetica del maschile è vero come diceva l'idia prima che non vi vogliamo parlare di Adam ed Eva ma di fatto dobbiamo comunque mantenere un certo criterio in questo ragionamento che è il principio maschile e femminile e tutto nella vita sulla terra si svolge e ruota attorno a questi due poli sono un po' come il sole e la luna attorno alla terra e il maschile e femminile ruotano attorno al creato un po' come il sole e la luna appunto attorno al nostro pianeta quindi queste due forze vanno ad interagire a intersecarsi sul pianeta nella vita nel creato fino a arrivare al punto di condensare la nostra esistenza umana questa condensazione è diventata la vita la vita come la conosciamo noi oggi ed è molto giovane moltissimo giovane perché il grande maestro ci parla di un ciclo di 124 mila anni dove abbiamo all'inizio di questo ciclo appunto l'arrivo di Adam ed Eva come i nostri precursori come un po' i nostri capostipiti quando parliamo di Adam ed Eva non parliamo ancora di condensazione materica come ci vediamo noi oggi come siamo noi perché di fatto c'è già una condensazione materica ci sono già i popoli sulla terra al tempo di Adam ed Eva e c'è già maschio e femmina e c'è già un principio di creazione e di generazione e lasciando un attimo da una parte Adamo prendiamo Eva che come grande madre divina grande madre energetica in come si può dire in posizione di istruttrice ecco della coesistenza umana aiuta aiuta l'uomo e la donna a interagire tra loro aiuta l'essere umano a prendere i primi contatti con se stesso a prendere i primi contatti con tutto quello che è la sessualità la vita i sensi l'appartenenza al pianeta a quello che è il legame con i regni che diceva Lydia prima a saper leggere intuire a saper ascoltare percepire saper decodificare il messaggio della vita perché il primo uomo non era in grado di decodificare tutte queste informazioni quindi come una buona madre come una grande buona madre Eva ha assistito a questa nascita se si può dire a questi primi passi dell'essere umano poi lei ha preso diversi nomi perché con lo spandersi lo sparpagliarsi delle popolazioni su tutto il pianeta ovviamente in unione con un altro ragionamento che apriamo e chiudiamo la parentesi che non solo Eva era l'unica primord dea dell'umanità ma tanti altri dei e dee erano sulla terra dopo la caduta di atlantide con l'inizio dell'era umana questi grandi esseri in maschile e in femminile come energia hanno affiancato l'essere umano su tutto il pianeta ma ognuno di loro era ed aveva una provenienza differente a livello cosmico e a livello galattico quindi si sono create le razze si sono create le dee hanno preso diversi nomi nel tempo ma il denominatore comune era sempre lo stesso poi mano a mano no? l'essere umano ha cominciato a prendere contatto sempre di più con la propria sostanza con le proprie emozioni con i propri sentimenti con le proprie capacità ma questo sempre sotto la guida di questi grandi esseri che per amore ci hanno affiancato e ci hanno reso più semplice l'inizio di questo grande percorso che ci avrebbe condotto alla grande diciamo presenza umana su tutto il pianeta alla grande espansione che l'essere umano avrebbe fatto poi su tutto il pianeta quindi loro sono rimasti un po' da un lato per non invadere il campo agli esseri umani come lo era prima che noi prendessimo piede sulla terra che comunque gli dei hanno sempre guidato molto da vicino gli esseri umani perché ci hanno insegnato tante cose ma tante veramente tante cose perché come adesso cioè non è tanto differente anche oggi ci sono gli dei che ci guidano gli scienziati ad esempio se gli scienziati non ci fossero noi non sapremmo tante cose quindi dobbiamo fare anche un po' di rapporto certamente la Dea è un essere divino è un essere meraviglioso ha un qualcosa che emana un'energia particolare anche perché non era umana completamente l'energia è come l'energia di un angelo l'energia di un sogno l'energia che solo al vederla fa tanta emozione può darsi anche paura a secondo come magari sono le cose però questi esseri che non avevano molto a che fare con la consistenza umana praticamente ci hanno accompagnato ci hanno dato tanta ricchezza di conoscenza e tanta ricchezza di sapere e in questa ricchezza ci hanno appunto insegnato come dovevamo fare delle cose e ci hanno aiutato a sviluppare tutto quello che siamo noi quindi non siamo nati imparati adesso è tutto facile adesso non adesso in questi due anni cinque anni ma in queste migliaia di anni cioè una donna mette alla luce del sistema solare alla luce del sole nasce una creatura un essere umano e questo essere umano dopo poco è in grado di riconoscere una voce di stabilizzarsi bene alla luce del sole all'aria al caldo al freddo ha delle potenzialità questa piccola creatura già in grado di gestire di affrontare un certo tipo di vita ma non è stato sempre così come per gli animali uguale adesso gli animali dopo migliaia di migliaia di anni di evoluzione hanno trovato la sua ambiente no? ma ci hanno messo degli anni di evoluzione migliaia di anni quindi come hanno fatto loro e per noi sono ci crediamo dobbiamo anche vedere e ragionare su quanto l'essere umano ha fatto fatica ad arrivare fino qui abbiamo fatto tanta fatica abbiamo dovuto imparare tante cose e tutto questo insegnamento da dove è venuto e tutt'oggi da dove proviene continuamente senza mai smettere senza mai cessare di donare 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 continuamente sono doni preziosi perché sono doni di conoscenza sono doni di sapere perché il sapere è necessario se noi non sappiamo poi non riusciamo a conoscere se noi riusciamo a conoscere dopo ok possiamo mettere in atto le cose produrle costruirle e altro perché poi diventiamo attraverso tutti questi passaggi diventiamo ricchi ricchi di conoscenza di sapere di capacità di sviluppo e anche di danaro se mai fosse che sono cose da poterle diciamo creare nella concretezza e poi ci danno magari un riscontro è tutta una catena siamo continuamente nella evoluzione della vere del dare del produrre del ricevere cioè una catena che ogni giorno si sviluppa sempre di più ed è una catena che non si può fermare nella razza umana perché altrimenti ogni cosa di noi si fermerebbe e anche tutto quello che il sistema di vita il sistema proprio di vita senza l'umano diventerebbe una giungla una foresta cioè una cosa senza ordine delle cose mentre invece la vita è un ordine delle cose tutto quanto è un ordine delle cose sia quella vita divina e sia la vita umana di tutti i giorni e quindi il divino questa parte divina che governa tutto quello che è femminile maschile non possiamo dimenticare se noi viviamo la vita se noi muoviamo le mani io poi gesticolo tanto mi piace tanto parlare anche con le mani no? perché il linguaggio anche di parlare con le mani è bellissimo mi esprimo tanto energeticamente muovi tanta energia muovo tanta energia certo mi piace tanto la danza l'energia è bello come una come si dice un maestro d'orchestra no? invece del battecchino della con le mani con le mani così muoviamo e l'energia danza solo che se siamo arrabbiati non danza tanto bene se invece siamo gioiosi è una danza meravigliosa mettiamo qualche velo sopra l'energia che bello è tutti i ballerini no? che creano una grande come si dice armonia un grande concerto energetico ecco benissimo grazie è vero ecco dovremmo cercare tutti i giorni di creare questo concerto è bellissimo con no? con gioia e con con tutti i colori dell'arcobaleno prendere questi ok ma è vero questo non è una sciocchezza è veramente cosa bella la vita veramente sarebbe bella e quindi questo giorno è un giorno dove la donna dovrebbe sentirsi veramente un augurio che faccio io alle donne e dovesse sentirsi veramente vicina 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 alla sua parte divina ma vicina proprio abbracciata alla sua parte divina perché troppo spesso la dimentichiamo troppo spesso non ci crediamo troppo spesso diciamo che abbiamo attualmente tante cose da fare che non abbiamo tempo di pensare a queste stupidaggini oppure che la vita non ti dà modo beh insomma non siamo molto disposti a diciamo a pensare e vivere nel credere veramente dentro di noi e fuori di noi che realmente abbiamo qualcosa in più di una di un di un essere solamente donna prosegue il discorso con la prima domanda di patrizia ciao che dice chiede la donna ha perso la sua sacralità il suo ruolo la sua potenza perché da così fastidio al giorno d'oggi la sua presenza e la presenza della donna non dà in realtà fastidio la presenza della donna richiama all'interno del del pensiero umano maschile un ricordo un ricordo un ricordo antico in cui la sacralità come l'hai chiamata tua ed è giustissima era in mano alla donna era in mano alla sua potenza creatrice creativa e rigeneratrice e l'uomo a un certo punto si è sentito minato da questa potenza si è sentito messo da parte sicuramente ha perso la strada maestra ha perso il suo essere Adamo il suo essere compagno di vita e compagno sacro della donna e ha guardato solo a se stesso solo al potere solo alla alla bramosia alla conquista al dominio e alla prevaricazione e l'essere umano maschile è sceso molto nei meandri della materia e non è riuscito e a fatica riesce anche oggi sebbene che ci sia un notevole sforzo ma ancora fatica tantissimo a rialzarsi da da quelle tenebre da quel buio sangue in cui si è invischiato e automaticamente se vede uno spiraglio di luce e lo spiraglio di luce è sempre la donna perché la donna riesce anche nel momento di difficoltà a tirare fuori quell'energia danzante come diceva prima Lidia e infastidisce infastidisce e fa sentire ancora più inferiore l'uomo nella sua natura energetica quindi l'uomo dovrebbe ritrovarsi di più in se stesso per poter affiancare la donna la donna ha già questa chiave dentro di sé la donna è rimasta Dea da sempre la donna è rimasta sempre figlia di Eva l'uomo invece ha perso questa maternità di Eva quindi siamo arrivati al punto in cui camminiamo su strade opposte cioè siamo sempre di fronte a un bivio non c'è mai un punto di convergenza doveva essere così stava scritto così è così che abbiamo deciso va tutto bene perché in definitiva sono tutte risposte giuste doveva essere così abbiamo scelto così dovevamo passare attraverso questo karma pesante e collettivo dovuto a questi duemila anni perché ripetiamo come dicevamo all'inizio tutto si racchiude in questi duemila anni questo atteggiamento così forte e schiacciante da parte dell'uomo nei confronti della donna prima non lo era quindi dobbiamo fare un ritorno al passato un ritorno alle origini andare a ripescare quali erano le potenzialità di ambe e due i sessi di ambe e due i binari di questo grande cammino umano e ristabilire l'ordine la donna ha la forza per tutti e due quindi la preghiera che facciamo io e Lidia a tutte le donne del mondo è di mantenere sempre attiva questa scintilla dentro di voi dentro ognuna di voi perché perché prima o poi vincerà perché è questione di tempo poi i tempi sono anche molto stretti e ravvicinati in questo momento quindi vedremo dei risultati a breve vedremo una grande trasformazione a breve perché quest'anno è uno di quegli anni di grande trasformazione anche se non accadrà tutto in un anno ci vuole il tempo il tempo cioè noi siamo qui sulla terra fisicamente concretamente da 126 mila anni considerando dall'anno zero indietro andiamo all'inizio ciclo 124 mila aggiungiamo i 2 mila anni dall'anno zero sono 126 mila anni di evoluzione non possiamo pensare né in un anno né in dieci anni né in cento di stravolgere trasformare le nostre strutture sia mentali che fisiche che energetiche però sono già all'opera queste forze sono già all'opera e a livello collettivo generale globale ci sono forze all'opera insieme alle nostre che ci stanno mettendo alla prova diciamo così ma non è una prova decisa da dio decisa dagli dèi decisa dalla legge è una prova decisa da noi stessi perché ci siamo noi come anime incarnate ci siamo accorti che abbiamo perso la via abbiamo perso il controllo e quindi ci siamo determinati e scelti eventi così potenti come i virus come le guerre come le catastrofi come i cataclismi per ristabilire l'ordine mentale funzionerà certo che funzionerà funzionerà ma noi ci dobbiamo mettere del nostro noi uomini ci dobbiamo mettere del nostro voi donne dovete mantenere quella scintilla attiva perché sarà attraverso di quella che per noi si rischiareranno le tenebre e per voi vi sarà finalmente il vostro spazio la vostra dimensione la vostra sacralità e il vostro essere regine di questo mondo regine di questa energia e il ritrovarsi il ritrovarsi di se stessi perché non ci stiamo ritrovando e ci stiamo mettendo tanto tempo e di conseguenza se non ci ritroviamo ci perdiamo se non abbiamo dei buoni punti di riferimento il bosco la giungla la foresta cinghiotte e non ci dà la possibilità perché tutte le vie tutti gli alberi i cespugli i fiori stessi qualsiasi cosa ci sembra già visto che siamo già passati lì in realtà può darsi sì può darsi no ma si perde facilmente la strada perché tutto è riconoscibile perché tutto è uguale e non è bene questo perché perdiamo l'orientamento di che cosa? della nostra vita e dopo bisogna riprenderlo quindi dobbiamo vagare per il bosco per la giungla o per la foresta a secondo dove ci troviamo in quel momento che abbiamo smarrito la nostra via Eleonora ciao ciao ci sono dei momenti della vita di una donna in cui il contatto con l'energia divina femminile è più forte o manifesto? assolutamente sì certo certamente certamente ma allora l'energia divina no con la femminile o maschile e bisogna vedere come la intendiamo perché ovviamente io sono una femmina non tanto donna perché donna significa il linguaggio materiale significa il linguaggio della terra significa il linguaggio ordinario via non vogliamo parlare del linguaggio ordinario perché questo qui significa io sono donna quindi viaggio da donna ragiono da donna discuto da donna pretendo da donna eccetera eccetera quindi vanto i miei diritti da donna no non è questo che vogliamo parlare perché se parliamo di questi diritti magari ci sono anche le discussioni no noi vogliamo parlare del maschio e della femmina è l'origine della razza è l'origine di noi stessi quindi non abbiamo che vedere con la donna e l'uomo cioè impersoniamo la vita in questo modo donna e uomo no? assuma lo spessore proprio del materia del corpo del corpo e allora perdiamo di vista invece l'obiettivo che è la parte energetica ed è l'energetica spirituale quella vera quella che è armoniosa quella che questi due esseri sono originari fatti così noi nell'origine non siamo donna e uomo siamo donna e uomo quando nasciamo alla vita su questo pianeta assumiamo questo vocabolo altrimenti siamo femminile e maschile perché siamo universali perché siamo cosmici perché siamo di un altro livello che non terrestre e basta quindi c'è molto da definire questo non ci dobbiamo dimenticare tutte le volte di fare questo distinguo proprio profondo perché altrimenti non si sa di che cosa stiamo parlando si stanno parlando di un maschio di una femmina quindi la sacralità la dobbiamo trovare da non da femmine ma da donne o da uomini perché da femmine abbiamo già la sacralità siamo nati da un atto d'amore universale siamo nutriti ogni giorno da un atto d'amore del pianeta di madre terra e madre natura veniamo dissetati ogni giorno dalla luce divina del sole ogni giorno veniamo nutriti da un amore superiore e ogni giorno dovremmo non dimenticare mai queste cose dovremmo avere ogni giorno un pensiero per tutto questo di ringraziamento e di riconoscenza perché non è la donna che lo dice o l'uomo che lo dice e cioè noi come esseri perché è importante no Hermes questa cosa maschile e femminile devono ragionare in questo modo poi si devono adattare perché devono amare e comprendere in umiltà la loro versione umana la donna e l'uomo che si dovrebbero amare a volte lo fanno a volte no ma non non facciamo la confusione è bene chiarire bene questo quindi quando si parla si parla sempre di quasi sempre di femminile e maschile perché è lì che siamo divini non è la donna e l'uomo che è divino perché il maschile il femminile ci dobbiamo sollevare dal livello di donna e di uomo perché altrimenti in questo caso è più la donna che ha la capacità il potere del cambiamento della trasformazione perché se si solleva lei lei che è creatrice di vita generatrice di vita maschile e femminile perché comunque sia sia l'uomo che la donna provengono da una donna quindi abbiamo comunque il principio di generazione che è energia femminile ma la donna stessa si deve sollevare dal suo essere solo donna deve prendere contatto con la sua parte femminile con la sua energia femminile con la sua discendenza femminile con la sua provenienza divina ed idea esatto così che questo perdonami Lidia che questo non vuol dire non essere donna e comunque non vivere da donna della terra cioè sono sullo stesso piano sullo stesso noi stiamo parlando sempre che sullo stesso piano noi dobbiamo imparare a mettere entrambe le cose materie e spirito esatto in tutto quello che facciamo in tutto quello che pensiamo in tutto quello che muoviamo dobbiamo farlo sempre energia maschile energia femminile perché sono i principi bianco e nero yin e yang luce e buio esatto ma dobbiamo mettere sempre in comunicazione l'espressione l'espressione della materia di questo corpo è maschio esatto è femmina con l'espressione divina cioè questo è dobbiamo capire bene questo quindi nella vita il combattimento lo facciamo nel livello maschile femminile scusa uomo e donna donna uomo non maschile e femminile il maschile e il femminile non discute mai si sono un po' rintanati eh sì si sono un po' racchiusi e rattrapiti dentro di noi dobbiamo tirare fuori il nostro femminile e il nostro maschile sia nel corpo di femmina donna sia nel corpo di uomo nel corpo di uomo certo questo è un po' bisogna anche questa è un'altra chiave di lettura che entrambe possediamo in misure differenti ma comunque reali ed esistenti entrambe le energie sacre quindi la predominanza dell'una e dell'altra sulla nostra vita va eh a sensibilizzare di più o di meno il contatto con la con il nostro lato divino quindi eh dobbiamo cercare un equilibrio tra queste due forze dentro di noi se vogliamo sentire la nostra anima se vogliamo comunicare con la nostra anima se vogliamo comunicare con la dimensione se vogliamo ritrovare noi stessi se vogliamo risvegliarci dal torpore dobbiamo mettere in comunione queste due forze dentro di noi ma ovviamente quella che ora ha più bisogno di tutto e di tutti è l'energia femminile perché dentro di noi sia come uomini sia come donne l'energia di Dea l'energia di Gaia l'energia della terra l'energia del femminile sacro l'energia del femminile supremo deve ristabilire l'ordine delle cose per tutta l'umanità per tutti nessuno escluso siamo quasi 8 miliardi e 8 miliardi di persone si devono ricollegare con questa sorgente divina certo e questo lo dobbiamo fare solamente attraverso la parte concreta materiale che è quella di donna e uomo perché è la donna e l'uomo che deve andare ad agire materialmente nella vita di tutti i giorni nelle situazioni della vita di tutti i giorni tutto quello che è ristabilire l'ordine lo dobbiamo fare materialmente ma materialmente non si può fare con l'energia e basta l'energia è evanescente non si può fare non abbiamo questa capacità ancora quando un giorno sapremo prendere un'astronave che è di fuori dal giardino ma un'astronave vera però non un piccolo aereo così e possiamo partire per i mondi celesti allora non avremo più bisogno del corpo umano e quindi faremo tutto in energia ma fino a quel momento noi siamo umani pesanti siamo cellula quindi e la cellula ha una pesantezza la cellula deve avere una gestione e la gestione la deve avere nel livello spirituale e nel livello spirituale deve agire nella matrice della vita che è il femminile e il maschile quindi il femminile sacro e il maschile sacro quindi dobbiamo capire che c'è questa dualità che è appoggiata e o se no infusa nella dualità di materia corpo umano che corpo di donna e corpo di maschile di uomo quindi questi due corpi devono comprendere che all'interno di ognuno di noi c'è un'energia divina sotto tutti gli aspetti Elide ciao ciao chi riesce a trasmettere meglio la linea spirituale l'essere femminile o l'essere maschile e l'essere femminile sempre è stato così perché ha una percezione diversa ha un andamento diverso una sensibilità una sensibilità diversa e l'uomo è più come dire diretto via più guida più guida più guida diciamo costruttore di questa linea esatto però diciamo le fondamenta le radici sono in mano alla femminile al femminile adesso in questo tempo esempio sì in questo tempo la femminilità sta sbocciando emergendo nella presenza di Maddalena ma Maddalena è una dea è vero che la conosciamo come una donna d'Israele che così eccetera eccetera che sì è vero non volevo solo fare questo accenno magari un'altra volta lo faremo però e diciamo che e oggi in questo tempo è la dea visibile alla nostra attenzione giovi giovi ciao ciao quali compiti hanno oggi le dee verso l'umanità beh non hanno nessun compito perché non esiste il compito di una dea la dea è dea la dea trasmette la dea espande la dea emette suono emette voce che è sentito solo dall'anima non è certamente sentito dall'udito a quello della come si dice dell'orecchio e quindi è il cuore che destabilisce se l'energia di una dea è diciamo nei pressi di ognuno che pensa di ognuno che agisce perché l'energia eh della dea o del o del o del dio e diciamo è adatto e proposto per quella situazione si sentono questi esseri queste energie in un altro modo in un altro livello non certamente quello terrestre massimo ciao ciao massimo ci chiede ci sono studi fatti sulla potenzialità della donna secondo i quali si evidenzia la capacità della società di intervenire negativamente sulle stesse anche il cuore umano segue questo procedimento il cuore umano dobbiamo fare un distinguo tra il cuore materiale il cuore organo il battito della vita il battito dei sentimenti delle emozioni umane e il cuore spirituale e di fatto non il cuore umano rimane un po' indefinito perché dobbiamo prendere dobbiamo prendere l'essere umano e guardarlo nella sua dualità come dicevamo prima noi siamo una parte di energia femminile una parte di energia maschile esattamente come siamo divisi a metà il lato destro il lato sinistro il nostro cuore materiale sul lato sinistro il nostro cuore spirituale sul lato destro la nostra capacità di far interagire il battito materiale con quello spirituale sta al legame che abbiamo con la nostra anima ancora meglio con il nostro spirito quindi la donna prende tutta questa forza prende tutta questa capacità da tutto l'insieme di questo battito per la donna il battito non è separato come nell'uomo non c'è distinzione tra destra e sinistra tra un lato e l'altro di noi stessi perché la donna sa captare l'energia direttamente dal cosmo e quindi per lei il battito è creazione per lei il battito è un eco cosmico poi tradotto nella struttura umana di donna ovviamente è il battito della vita e come uomini non siamo così in grado di percepire la sottigliezza di questo percorso all'interno della donna perché per noi invece è più facile fare distingui mettere delle barriere mettere dei confini perché la nostra mente molto più logica e razionale tende a settorizzare il le parti di noi stessi e degli altri quindi non riusciamo ad avere la visione a 360 gradi se non in porzioni come se fosse una grande torta che viene fatta a fette per l'uomo è più facile gestire tutte quelle fette mentre per la donna non è necessario fare a fette una torta perché per lei l'intero è già la comprensione di tutto quello che vi sta al suo interno non necessita di creare delle linee delle bordature dei confini su questa dimensione e sull'altra quella da dove proveniamo esatto patrizia ciao di nuovo grazie per le tue domande patrizia sempre e ci chiede ho notato soprattutto nel mondo del lavoro che è poco presente la solidarietà tra le donne mentre ce n'è da vendere di gelosia e invidia purtroppo non facciamo gruppo perché ci fa molto piacere che dici questa cosa è vero è vero però non possiamo cioè aprire un una un dibattito un dibattito su questo perché abbiamo già terminato il nostro tempo però magari faremo una diretta dove mettiamo all'interno questo argomento perché è interessante e appartiene a tutti non è una cosa che vedi solo tu è una cosa giusta e che magari tu hai il coraggio hai avuto il coraggio di dire questa cosa e invece magari altrimenti non lo diciamo e stiamo zittini e poi invece succedono delle cose assolutamente dobbiamo avere il coraggio di dirlo e di ammettere questa cosa ed è anche una cosa di cui prenderne atto per riuscire a confrontarci meglio e a mettere ancora più a posto tutti quei pezzi che continuano a separarci continuano a vederci divisi esatto serena ciao ciao oggigiorno la distinzione fra maschile e femminile mi sembra meno netta mi riferisco alle nuove generazioni che prendono il contatto con entrambe le parti dentro di sé e di conseguenza si avvicinano a persone sia di sesso maschile che femminile in termini di attrazione perché questo? perché praticamente si avvicinano all'essere unico si avvicinano ad avere quella realtà che dovremmo raggiungere dell'essere unico e purtroppo anche questo ha una non come si dice spalanca un portone immenso su una realtà e su un argomento che andrebbe gli andrebbe dedicato del tempo anche qui tantissimo perché di fatto è e fa parte di questo risveglio di idea di questo risveglio esatto del femminile sacro e del maschile sacro e quindi quando parliamo di sentirci parte di un sistema di sentirci in in una dinamica di trasformazione come quella che sta avvenendo adesso di fatto stiamo parlando di questo stiamo parlando di questa realtà esatto di questa assimilazione in termini eh sia strutturali che fisici che genetici di maschile e femminile in porzioni che di cui non ne abbiamo mai avuto il contatto fino a questo momento e vado all'ultima domanda poi siamo in chiusura perché altrimenti eh ci chiudono Gerlinde ciao ciao nei vostri libri ho letto eh che Gesù racconta del grande rispetto dei suoi genitori l'uno per l'altra era un sentimento materiale o anche spirituale eh diciamo che era un sentimento spirituale ma era una un sentimento anche materiale ovviamente si parla di altri tempi ovviamente si parla di molta educazione molto rispetto molto molto che la famiglia era comunque un saldo un caposaldo la famiglia era eh diciamo un punto cardine eh la loro famiglia e magari anche altre famiglie e devo dire questo dobbiamo dire questo che dove in casa in ogni casa dove c'è la fede dove c'è il sentire quello vero però della presenza divina nel cuore e nella mente quella quel senso di bello quel senso di quell'amore che diciamo oserei dire che non ha niente che vedere umano ma è un amore bello un amore che dove c'è qualcos'altro che parla dentro di noi nelle famiglie nelle persone a tutt'oggi dove c'è questo dentro il cuore e che viene è usato anche nel comportamento e nell'animo c'è questa benevolenza c'è questa bellezza e questo amore grande all'interno di ognuno di noi che non ha nessun tipo di convenienza c'è e basta è bello c'è qualcosa di magico c'è qualcosa che va al di là della vita va al di là e si vede e allora i genitori di Gesù avevano questa questo questo amore questa abitudine questo questo rispetto è questa bella condivisione di vita con Gesù e le sue sorelle e suo fratello altro fratello eccetera avevano una famiglia numerosa e che era bellissimo questa famiglia numerosa dove c'è la fede c'è tanto di abel di bello ma sempre è stato così non è una cosa di adesso o perché c'è sul libro di Gesù oppure su altri o perché appartiene solo a lui e alla sua famiglia no dovunque c'è la fede e per fede intendiamo un credo per fede intendiamo qualcosa che proviene dalle stelle che è qualcosa che è veramente consideriamo noi più grande di noi non è detto che sia così per tutti non è detto che deve essere nella stessa linea per tutti ognuno lo sentirà come lo sentirà ma chi lo sente vive la vita veramente su un altro piano su un altro livello e con questo vi ringraziamo tanto per la presenza ringraziamo il gruppo la richiesta agli angeli grazie per lo spazio che ci dona e auguriamo nuovamente a tutte le donne un non un buon 8 marzo un sempre buon 8 marzo che lo sia tutti i giorni della nostra vita noi maschietti con una consapovolezza un amore differente e più rispettoso e voi femmine con un'accoglienza di voi stesse della vostra sacralità sempre maggiore e sempre più luminosa però non ci dobbiamo dimenticare di questa sacralità che maschio e femmina da sempre abbiamo e per sempre avremo e non nella donna e nell'uomo perché donne e uomo devono evolvere donne e uomo devono combattere la vita per evolvere per incontrare l'amore divino l'amore del cuore grazie ciao a tutti e buona serata grazie ciao ciao ciao